la saluta noi ce ne andiamo giovanni viene da prendere la panna e da giovanni p Enough facciamo una piccola facciamo una piccola non lo so non lo so non lo so hai capito? non lo so la maschera non lo so lui è Giovanni Erovante invece lui come si chiama signore? lui è Giovanni Erovante signore si chiama? Erovante Giovanni erovante Giovanni è interessante e domani tu porterai la maschera di domani si la maschera grazie e dico domani porterai quella che lui ha portato si si sta andando a chiedere i panni ma adesso lo fa? si mo ce ne andiamo noi ci mettiamo la così fa saverio fa una piccola voglio fare la professore non lo so non lo so voglio anche riprendere e noi ce ne andiamo no 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 ci mettiamo no 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 ci mettiamo no 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 ci mettiamo no ci mettiamo